3, 2, 1, vai, 20, destra 2 tieni, in sinistra 2 apre che diventa 3 al cartello, sinistra 2 apre e diventa 3 al cartello, vai 100, alla fine della rete verde destra 1, poi 50, destra 6 stacca, per sinistra 2 gira, 50, destra 6 stacca, per sinistra 2 gira, poi 50 sinistri per destra 2, 50 sinistri per destra 2, 70, alla pianta, destra 3 lunga tieni la tutta per inversione sinistra leva, 100 sinistri, ai cartelli stacca per inversione destra, poi 30 e destra 1, 30, destra 1, destra 1, in sinistra 1 stretta, poi 100 e inversione sinistra leva al ballone, Inversione sinistra, poi 100, grande, brava, vai, 100, inversione destra leva, inversione destra leva, 80, destra 3 occhio interno, poi 30 e sinistra 2 tieni al muro, sinistra 2 tieni al muro, per inversione destra stretta, inversione destra stretta, Grande, vai, sinistra 4 piena convinta, 50, al cartello imposta sinistra 5 lunga, al cancello tieni interno e poi vai 100, al cartello imposta destra 5 piena, poi vai 150 e chicane entrata a sinistra, chicane entrata a sinistra, chicane 200 a pista, 200 a pista, 200 a pista per destra 3 tieni in sinistra 3, destra 3 tieni in sinistra 3, sinistra 3 per destra 4, poi 20 e sinistra 4 tienila, sinistra 4 tienila per destra 4, Destra 4, poi vai 150, sinistra 4 stretta, sinistra 4 stretta, poi 50 e sinistra 5 piena non mollare, poi vai 150 e ai cartelli sfiora, sinistra 5 non mollare, dopo il cartello stacca per destra 3, destra 3, Poi 100 a pista, a pista occhio i palloni e al cartello stretto gli entrata destra, stretto gli entrata destra, poi 30, destra 3 piena, 50, destra 3 tieni, in sinistra 5 piena, sinistra 5 piena, poi 50 accenno destro, in sinistra 4, Poi vai 30, in sinistra 4 che diventa 3, sinistra 4 diventa 3, poi 100 e ai cartelli al contrario accenno destro e subito sinistra 4 larga apre, sinistra 4 larga apre, poi vai 100 e al rail, Vai destra 4 doppio tempo, per sinistra 3 doppio tempo, destra 4 1, destra 4 2, per sinistra 3 doppio tempo, sinistra 3 1, sinistra 3 2, vai 80 per destra 3, poi 30 in sinistra 3, 30 in sinistra 3, poi 50 tieni sinistra 5 convinta, 50 sinistra 5 convinta per destra 4, destra 4 in ritardo a sinistra 3, ritardo a sinistra 3, poi vai 150 e ai cartelli tieni, Destra 5 convinta in accenno sinistra, destra 5 convinta in accenno sinistra e poi stacca per destra 2 sul ponte, occhio umida, occhio umida, destra 2, poi 70, Alce spugno e impassa sinistra 4 e poi vai 150, sinistra 4 e vai 150, tieni destra in fila sinistra 4 per destra 3, sinistra 4 per destra 3, poi 30 e alle zebbre sinistra 3 apre 4, sinistra 3 apre 4, in destra 5 piena, Destra 5 piena, poi 70 destri e dopo il cartello sinistra 5 doppio tempo, per destra 6 piena, sinistra 5 1, 2, per destra 6 piena, Al cartello stacca per destra 3, al cartello stacca per destra 3, poi 70 e al cartello infila sinistra 3, sinistra 3, poi 30 e ancora sinistra 3, tienila e attenzione, Destra 1 per sinistra 1, stretta sporca, destra 1 per sinistra 1, stretta sporca, poi denti e destra 2, 70 destri, destra 2, brava, 70 destri, alla cabina infila sinistra 4 piena, per destra 5, per destra 5, poi 50 e chicane entrata a sinistra, Chicane entrata a sinistra, poi 100 e al ponte destra 3, brava, 100 al ponte destra 3, poi 30 e alla stradina in posta sinistra 5, per subito destra 3, tieni umida, sinistra 5 per subito destra 3, tieni umida, Poi 30, sinistra 4, apre, sinistra 4, apre e vai 150, al recinto sinistra 4, tieni, poi vai 70, tieni sinistra 4, per subito destra 3, umida, subito destra 3, umida, occhio qua, Poi 20, sinistra 4, tienila tutta per subito destra 3 sul ponte, destra 3 sul ponte, sfiora sinistra 5 che diventa 4, umida, sinistra 5 diventa 4, umida, poi tieni in destra 4, destra 4, in sinistra 5, destra 5 piena per accenno sinistro, per destra 4, poi 70 destri, E dopo la pianta gira gira sinistra 3, tieni, dopo la pianta gira gira sinistra 3, tieni, poi 70 ritardo a destra 3 sul ponte, 70 destra 3 sul ponte, poi accenno sinistro e vai 200, accenno sinistro e vai 200, affinerei l'imposta sinistra 5, non mollare, sinistra 5 non mollare, Poi vai 80 ai cespugli sinistra 4 lunga, sinistra 4 lunga, poi al ponte destra 3 gira gira, sinistra 4 lunga e al ponte destra 3 gira gira, stringiti a destra, è una destra 3 stretta, ok, poi 20 al cartello imposta sinistra 4 lunga che all'arancio apre, Poi vai 100 ai cartelli sfiora destra e alle zebbre ritarda sinistra 4 gira, alle zebbre sinistra 4 gira, poi 70 sinistri e al palo imposta destra 4, al palo imposta destra 4, Poi accenno sinistro per destra 4 tieni umido scivola, destra 4 tieni umido scivola, poi vai 50 e dopo la fine della rete verde al palo sinistra 4, sinistra 4, 30 al blocco di cemento sfiora sinistra 5, Piena non mollare, 50 tieni sinistra 4 lunga lunga, per destra 4, destra 4, al cartello infila sinistra 3, poi 50 sinistri, sinistra 3 e poi 50 sinistri, al cartello imposta destra 4 piena, Poi vai 150 sinistri e attenzione stacca per inversione destra 1 stretta scivola, inversione destra 1 stretta scivola, 50 ad osso, per attenzione sinistra 2 gira scivola, sinistra 2 gira scivola, poi 20 e ritardo destra 1, ritardo destra 1, poi vai 50, ok fine prova, brava, 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 Eh sì, abbiamo perso tempo perché poi quando ti dicono piano tu non sai dove devi arrivare.